Ci sono tre tipi di persone a questo mondo. Le pecore, i lupi e i cani da pastore. Ci sono persone che preferiscono credere che nel mondo il male non esista e se mai si affacciasse alla loro porta non saprebbero come proteggersi. Quelle sono le pecore. E poi ci sono i predatori, che usano la violenza per sopraffare i deboli. Quelli sono i lupi. E poi ci sono quelli a cui Dio ha donato la capacità di aggredire e il bisogno incontenibile di difendere il greggio. Questi individui sono una specie rara, nata per affrontare i lupi. Sono i cani da pastore. In questa famiglia noi non alleviamo pecore. E io vi ammazzo a cinghiate se diventate dei lupi. Wayne! Ma proteggiamo chi amiamo. Se qualcuno prova a picchiarti, se c'è chi fa il bullo con tuo fratello, vi autorizzo a farlo smettere. Quello aveva preso di mira Jeff. È vero? Sì, signore. Sì, è vero. L'hai fatto smettere? Allora tu sai chi sei. Sai qual è il tuo scopo. Sì, sai chi. Passare è la continua. Grazie per la visione!